Gentili telespettatori, buona giornata. Il generale Vannacci parla con la Fornero a di martedì, programma di Floris. Dice, mi dispiace deluderla, ma io e lei non abbiamo niente in comune. La Fornero dice, vede generale, od onorevole come vuole, noi abbiamo una cosa in comune, tutti a due abbiamo servito lo Stato. Io ho fatto il professore nell'università, lei ha fatto il militare, fino ai più alti gradi nell'esercito, dice la Fornero. È un servizio pubblico e per definizione al servizio degli altri. Non ha certezze. Lei parla implicitamente forse di dialogo, ma lei ha un'unica verità, la sua, ma di verità non ce n'è una sola. Il mondo è più sfaccettato e quello che trovo importante è avere apertura mentale. Io vivo a Torino e pensavo ai teppistelli dell'epoca di Don Bosco, dice la Fornero. Ragazzi che non avevano opportunità e quindi erano costretti all'illegalità. Don Bosco li ha presi, portati negli oratori e fatto le scuole professionali. Lei avrebbe detto, questi qui non hanno i nostri valori e quindi mandiamoli in galera e magari gettiamo pure la chiave. La realtà è più complessa, generale. Lei la squadra troppo, la verità. E dice la, dice il generale, vannacci, mi dispiace deluderla, ma non credo che abbiamo qualcosa in comune. Lei ha fatto la professoressa e io ho giurato fedeltà alla patria e giurato di difenderla in armi anche al prezzo della mia vita. Sono cose un po' diverse queste, sono cose riservate ai soldati. Vede che lei esprime e invoca di nuova una superiorità. Io parlavo di un servizio comune, lei è superiore a me e io mi inchino davanti a tutti i militari che hanno un'idea di patria diversa dalla sua. Questo è veramente inaccettabile, la mia non è una superiorità, diceva Nacci, è solo una differenza che voi evitate generalmente di mettere in luce. Ma insomma, mi sembra un discorso un po' sterile che non porta da nessuna parte. Da questo discorso non esce assolutamente nulla. La Fornero dice che vannacci alla sua verità. La Fornero dice che le verità sono diverse. È vero che ognuno ha la sua verità o no? Allora, che 2 più 2 fa 4 è una verità? Dice no, io ho un'altra verità, 2 più 2 fa 3,85. Ci sono alcune cose che sono delle verità assolute. 2 più 2 fa 4. Però c'è una verità diversa. Per esempio, quando è che 2 più 2 non fa 4? Sapete dirmi quando 2 più 2 non fa 4? C'è. Quando due partiti si fondono e uno aveva il 2% e l'altro aveva il 2%, la somma di questi due partiti fa 3, non fa 4. Quindi questa è una verità parallela dove il 2 più 2 non fa sempre 4, in alcuni casi fa 3. Eh sì. Dice no, 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 no. 2 più 2 fa 4. Prendi la calcolatrice e 2 più 2 fa 4. Scrivilo sulla calcolatrice e fa 4. Ho capito che fa 4, ma se voi fondete due partiti che hanno il 2%, il 2 più 2 di quei due partiti non fa 4, fa 3. È una verità diversa. Non è una verità con la calcolatrice, ma è una verità che viaggia su un altro piano, non su quello della calcolatrice. Pertanto, la Fornero dice che Vannacci ha la sua verità. Tutti noi abbiamo la nostra verità. Io vi ricordo un collega di lavoro che me lo diceva. Luca, quella è la tua verità. Non è la verità, è la tua verità. Quando è che si hanno verità diverse, che non sono quelle della calcolatrice 2 più 2 fa 4? Quando uno dice secondo me non si chiede l'eredità in anticipo a dei genitori. E l'altro ti dice beh no, perché? Cosa c'è di male a chiedere l'eredità in anticipo ai genitori? Qual è la verità? Esiste una verità? No. Sono due modi di intendere le cose differenti. Quindi quando la Fornero dice lei Vannacci ha la sua verità, intanto non sappiamo esattamente a che cosa si stia riferendo. Il mondo al contrario è la verità di Vannacci, è la verità di Vannacci e la verità anche di milioni di persone che credono esattamente come lui che il mondo sia al contrario. Poi ci sono altre persone tipo Schlein eccetera eccetera che non condividono il fatto che il mondo sia al contrario. Anzi, il mondo di oggi per loro è giusto, era quello di prima che era al contrario. Per esempio Vannacci si basa sul fatto che oggi è diverso da ieri. La società di oggi è diversa da quella degli anni 80. Oggi la società è al contrario rispetto agli anni 80. Ed è vero. Qui non si sta parlando di verità. Negli anni 80 la situazione era in un certo modo dove si rideva, scherzava sulle minoranze. Io stavo vedendo ieri un telefilm, Will il principe di Bel Air, ve lo ricordate? Bene. Lì la comicità si basa sulla discriminazione. Lui che dice a Caltron, Will che dice a Caltron sempre che è basso. In tutte le puntate più di una volta continua a dire tu sei basso, tu sei un puffo, tu sei un nano. Mentre al papà, alto due metri, ma un gigante, gli continuano a dire che lui è gordo, gordo, in spagnolo, che lui è sovrappeso. E continua questa discriminazione in tutte le puntate. Quello è un telefilm che si è fatto dal 1990 al 1996, quando non c'era il politicamente corretto. Oggi quei telefilm non vengono neanche più trasmessi perché risultano offensivi per chi non ha i canoni estetici della Barbie. Quindi quello basso e quello in sovrappeso, continuamente derisi in questo telefilm, non possono più aver luogo. Quindi quando Vannacci dice che oggi il mondo è al contrario, lui dice che è al contrario rispetto al 1980-1990. Oggi è un altro mondo, il mondo al contrario, ma la sua non è la verità di Vannacci. Il mondo oggi è diverso da quello degli anni 80, quindi non è la verità di Vannacci, è una verità come quella sulla calcolatrice che 2 più 2 fa 4. Oggi è un mondo al contrario, che sia migliore o peggiore, ditelo voi, ma è un mondo al contrario, cioè si è ribaltato, tutti i concetti si sono ribaltati. Quindi oggi è realmente un mondo al contrario. Grazie a tutti e arrivederci a presto.